In chiusura nel giorno in cui apprendiamo di un nuovo ride vandalico dopo quello dell'ottobre scorso nei locali del centro antiviolenza annesso al centro di accoglienza Padre Nostro fondato da Don Pino Puglisi nel rione palermitano di Brancaccio torna anche l'appuntamento ormai fisso con il lunedì film oggi un prodotto dal titolo Il Sacrificio di un Beato di Francesco Millonzi un film inchiesta che guarda caso parla proprio della vita e della tragica cronaca che abbolge il Beato Puglisi e dunque facciamo il punto prendendo anche spunto della cronaca delle ultime ore Il Sacrificio di un Beato dalla regista Francesco Millonzi un prodotto filmico che torna puntuale questo lunedì 10 gennaio incentrato sulla vita e la cronaca dell'uccisione del Beato Giuseppe Puglisi nel film ci sono le testimonianze di persone che hanno vissuto a stretto contatto con il Beato compreso l'esclusiva intervista fatta ai fratelli Puglisi tra cui l'intervista toccante al fratello Gaetano oggi defunto la testimonianza dell'arcivescovo di Palermo Monsignor Corrado Lorefice e con la ricostruzione cinematografica fatta con le persone che lo hanno soccorso nei momenti di agonia al momento della soccisione il Beato Giuseppe Puglisi non era, è mio fratello mio fratello, ha perdonato gli autori del delitto ho rinunciato alla vendetta, se questo vuol dire perdonare allora ho perdonato questa pellicola che sta riscuotendo molto successo sta attraversando l'intera Sicilia avendo un riscontro notevole da parte di tutto il pubblico la visione di questo film è stata anche introdotta dal centro Padre Nostro fondato dal Beato Puglisi durante i momenti che ricordano il Beato ma torniamo alla cronaca odierna nuovo raid vandalico nei locali del centro antiviolenza annesso al centro accoglienza Padre Nostro fondato proprio da Don Pino Puglisi nel rione palermitano, forse fra i più noti, quello di Brancaccio è stato infatti sfondato con un masso il vetro della porta secondaria che si affaccia in un piccolo cortile dove ormai da anni viene allestito il presepe il presidente del centro di accoglienza Maurizio Artale ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine che sono intervenute anche con l'ausilio della polizia scientifica un brutto segnale commenta Artale che certamente non farà intimorire le centinaia di volontari operatori e soci che animano ormai da 28 anni il centro di accoglienza manterremo, continua ancora Artale, sempre lo stesso atteggiamento che ci ha insegnato il beato Giuseppe Puglisi per essere esempio solido e concreto di quanti cercano la strada per la legalità, giustizia e la conversione di vita mafiosi e delinquenti comuni sanno che il centro antiviolenza di Palermo fondato dal beato Puglisi è punto di riferimento e simbolo di legalità in un quartiere con mille problemi come quello di Brancaccio ma dovrebbero sapere anche che gli operatori e volontari del centro assieme a tutti i cittadini che usufruiscono dei suoi servizi non si fanno intimidire da atti vandalici è la conferma di quanto questo presidio di generosa assistenza alla comunità dia fastidio a chi vorrebbe continuare a vivere nella illegalità al presidente Maurizio Artale, a tutti i soci del centro di accoglienza padre nostro, la solidarietà mia del governo regionale con l'auspicio che gli autori dell'ennesimo raid vandalico siano individuati al più presto ad affermarlo è il presidente della regione siciliana Nello Musumeci